L'amministrazione Capitolina per i meriti, per l'impegno, per la dedizione vi regala queste medaglie, non sono quelle a cui siete abituati, però questa è la medaglia della registrazione. Ci abbiamo anche in tasca, ci abbiamo entrambi adesso. Quasi quasi si figura la nostra, ma in realtà è bella, perché rappresenta lo tattesimo anniversario di Cinecenta, quindi questa è di nuovo conio e quindi l'amministrazione te la regala. Grazie mille, fa piacere. Grazie. Grazie, una per una e anche per il Presidente. Il Presidente sta vicino in connesso. Anche per gli altri? Grazie, posso sentire, grazie.